Questa Italcorsa ha ormai un nome popolare, la chiamano il Bissinuro. Con questa macchina Taruffi tenta il record del chilometro e del miglio. La fetuccia di Terracina orlata di pubblico farà da pista e Taruffi parte. Marto Patto ha sguintagliato sul rettilineo i suoi venti avversi, tanto che si era quasi deciso di rinviare il tentativo. Ma l'organizzazione era fatta, il motore appunto, Taruffi si sentiva in giornata. Circa 4 i chilometri di l'aria. Taruffi ha raggiunto i 313 e mezzo. Il volide passa come un rumo di vento. Taruffi ha battuto anche il vento. Taruffi ha battuto anche il Pinr opiniтор. Taruffi ha battuto anche il primo di livello. Farif lui ha battuto anche ilogo stesso. Taruffi ha battuto anche il권ato. Tag loginato aiадцassi. Antigato a primavera, ogni нав что non si viva. Visita al mehrso dell'aria. urate a la visione strarfe. Adkins amanti a拓 Рexano. Adkins amanti a treisti. E CCTV citratghi ha battuto anche il resto degli ultimi. N CAMPAGO UNSMI DA Hungary 16 da dumpro. Grazie a tutti.